Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie su Triss e sul canale 172. Inevitabilmente anche oggi apriamo con il coronavirus. Il coronavirus perché c'è ancora un boom di nuovi casi in Sicilia, record di positivi anche nel resto d'Italia. E proprio Giovanni Rezza dice che si tratta di numeri preoccupanti. Vediamo il servizio. 1707 nuovi casi, 64 ricoveri con sintomi, di cui 5 in terapia intensiva. Questi i dati dell'ultimo report, numeri che confermano l'avanzata del virus anche in Sicilia. In totale sono 1.450 i posti occupati nei reparti ordinari delle aree Covid, 210 quelli in terapia intensiva. In crescita però anche il numero dei tamponi processati, 10.217 in un giorno, più di 24.600 le persone in isolamento domiciliare, 35 i decessi, 5 in meno rispetto a giovedì. Questa la geografia dei contagi, provincia per provincia, 589 positivi in più a Catania, 444 a Palermo, 176 a Ragusa, 116 a Messina, 95 ad Agrigento, 89 a Siracusa, 87 a Caltanissetta, 77 a Trapani e 34 ad Enna. Facendo un focus sul siracusano, sono 1.255 gli attuali positivi in provincia, 397 nel capoluogo. Positivi al virus, altri due medici del pronto soccorso Covid dell'ospedale Canizzaro di Catania sale quindi a 4 il numero dei contagi tra i sanitari del reparto. Proseguono intanto gli screening sul mondo della scuola con i tamponi rapidi nei drive-in allestiti in diverse città siciliane. Curva del contagio in crescita anche in Italia con il nuovo record di casi 40.902 in un solo giorno, record però anche di tamponi processati sono quasi 255.000. Il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese è salito a 650 per 100.000 abitanti, anche se questa settimana l'RT sembra essere leggermente diminuito da 1,7 a 1,4. Si trova comunque sia al di sopra di 1 e questo rappresenta solo un primo segnale di una diminuzione della trasmissione che potrebbe essere attribuita ai provvedimenti che sono stati signora presi. Più che raddoppiati i ricoveri con sintomi, 1.041, 30.914 in tutto. In calo invece le terapie intensive, più 60 in 24 ore, 3.230 in totale. Quasi 630.000 le persone in isolamento domiciliare, in calo i decessi sono 550. Questo chiaramente giustifica ulteriori misure restrittive che devono essere prese soprattutto nelle regioni che sono a rischio più elevato e naturalmente induce la popolazione a comportamenti prudenti. Due tablet con schede SIM per permettere ai pazienti Covid dell'ospedale Umberto I di Siracusa di comunicare con l'esterno. Si tratta del progetto Operazione Risorgimento Digitale, intrapreso dall'ASP di Siracusa con un gestore di servizi di telefonia ed una società produttrice di tablet per agevolare la comunicazione tra i pazienti ed i loro familiari. L'iniziativa rientra nell'ambito dei processi di umanizzazione dei servizi sanitari dell'azienda e del programma portato avanti dall'unità operativa SIFA per le tematiche sanitarie digitali. Non appena abbiamo avuto conoscenza del progetto, abbiamo immediatamente avanzato richiesta di adesione per i nostri ospedali, per sostenere ed aiutare i nostri pazienti ricoverati in un momento così difficile. Queste le parole del direttore generale dell'ASPOTO, Salvatore Lucio Ficarra. E nei prossimi giorni saranno consegnati altri dispositivi a disposizione di tutti i ricoverati dei Covid Center del Siracusano. In tempo di coronavirus, in tempo di Covid, non mancano le disavventure. Per due volte lo hanno portato in sala operatoria senza esito. Appunto si tratta della disavventura di un cardiopatico in particolare in questo servizio. Mio padre ha un aneurisma alla orta surrenale, un aneurisma di dimensioni molto importanti. L'intervento è stato annullato non alle soglie della sala operatoria, ma dentro la sala operatoria, all'ultimo minuto, per la seconda volta. E' la storia di un uomo di 69 anni, siracusano, ricoverato al Policlinico Ferrarotto di Catania. Dopo essere stato preparato per tutto ciò che serve per affrontare un intervento chirurgico, con la canula ancora al braccio, pronti per l'anestesia, all'improvviso tutto viene annullato, per mancanza di posti in rianimazione. A denunciare l'accaduto è la figlia, Stefania Bongiovanni. Mio padre ha un aneurisma alla orta surrenale, un aneurisma di dimensioni molto importanti, scoperto durante un controllo perché il recidivo di problemi cardiovascolari è stato operato nel 2016 per una doppia dissecazione aortica, trasferito d'urgenze nell'isoccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa al Ferrarotto di Catania. Tra l'altro l'equipe chirurgica è la stessa, quindi ci tengo a dire che lungi da noi puntare il dito contro i medici, gli infermieri e i perché sono stati ineccepibili sotto tutti i punti di vista. Ora abbiamo saputo che l'intervento è stato annullato non alle soglie della sala operatoria, ma dentro la sala operatoria all'ultimo minuto per la seconda volta. La prima perché c'è stato un guasto tecnico ai macchinari e fin lì può capitare nulla da dire. La seconda volta è stato annullato perché non erano più disponibili posti in rianimazione. E siccome l'intervento di mio padre è un intervento con un alto margine di rischio e si prevede una degenza che in tempi di Covid è abbastanza lunga e rianimazione, si parla di almeno 4-5 giorni, hanno ben pensato di rinviarlo. Ora, ripeto, in via ufficiosa abbiamo saputo che probabilmente lunedì ce la dovremmo poter fare, però, insomma, ufficialmente ancora non sappiamo nulla. Tensione e preoccupazione per l'intervento da affrontare è per la seconda volta tutto sospeso e tanta l'indignazione del paziente e della famiglia. Per questo, infatti, la figlia chiede spiegazioni. Il giorno che è saltato per la seconda volta l'intervento, tornata a Siracusa ho mandato una PEC alla direzione generale del Policlinico Universitario di Catania pregando di fornirmi risposte con le motivazioni ufficiali per le quali l'intervento di mio padre è stato rinviato per la seconda volta, ma a tutt'oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione formale. Sappiamo da quello che, insomma, i chirurghi hanno riferito a mio padre che probabilmente lunedì, ma ripeto, è una notizia ufficiosa, non ufficiale, dovrebbe finalmente essere operato. Io le uniche notizie che ho riferito le ho avute dalla stampa. Pare che non sia stato un caso isolato perché da, diciamo, voci di corridoio abbiamo saputo che nello stesso Policlinico Universitario, nella stessa giornata, giorno 12, è stato annullato un altro intervento di chirurgia oncologica per un paziente con un tumore al polmone. Ora, per carità, io capisco benissimo, perché essendo un'insegnante vivo la situazione tutti i giorni, capisco che c'è il Covid, capisco che siamo in una situazione di estrema emergenza non solo in Italia, ma in tutta Europa, nel mondo, però è anche vero che non ci sono solo i malati di Covid. È anche vero che gli ospedali hanno avuto un largo margine di tempo per potersi organizzare, visto che è considerato che, a detta degli esperti, era prevedibile che si sarebbe verificata una seconda ondata. Ora, ripeto, non voglio puntare il dito contro nessuno, però è anche vero che cose di questo tipo non dovrebbero mai succedere perché un paziente non entra in sala operatoria a cuor leggero. Sicuramente, anche dal punto di vista psicologico, è una prova molto difficile da affrontare. Infatti, la cosa che non sperimenta di più per mio padre è proprio la sua condizione psicologica, perché è ricoverato da cinque settimane. Chiaramente, vabbè, c'è stato un ricovero, poi è stato dimesso qualche giorno, è stato ricoverato di nuovo cinque settimane, durante le quali però non c'è stato permesso vederlo. È rimasto da solo. Sì, è un paziente di 69 anni, ma allergico alla tecnologia, quindi non sa usare nemmeno uno smartphone, un tablet, quindi tagliato fuori dal mondo. Immaginatevi come ci si può sentire in una situazione del genere. Una buona notizia che riguarda il coronavirus, se si può dire così, perché anche i medici di famiglia e i pediatri potranno eseguire i tamponi. C'è stato un accordo tra la Regione e la Federazione Italiana Medicina Generale. Il numero dei casi di Covid-19 sta aumentando in maniera esponenziale. Il servizio sanitario sta entrando in crisi, i medici medicina generale vogliono dare il loro massimo contributo per aiutare il momento di criticità. Anche in Sicilia i medici di base e di pediatri daranno il loro contributo alla lotta al Covid. È stato siglato infatti l'accordo tra Regione e FIMG, intesa sindacale e associazione dei pediatri. Anche i medici di famiglia e i pediatri, pertanto, potranno eseguire i tamponi. Faranno i tamponi ai pazienti che sono in isolamento domiciliare e che devono rientrare nelle normali attività e che devono fare il tampone. Tutto ciò serve ad alleggerire il lavoro che in questo momento stanno facendo i dipartimenti che sono in questo momento in sovraccarico. Medici di famiglia e pediatri potranno effettuare i test anche ai casi sospetti, a chi è certo di essere entrato in contatto con un Covid positivo. Nelle casi in cui il medico di medicina generale si trova davanti a un paziente con dei segni sospetti potrà fare il tampone ai fini discriminatori di una diagnosi. Andando sul piano pratico, se una persona è in isolamento a casa Covid positiva e vuole essere sottoposta al tampone per accertarne un'eventuale negativizzazione, cosa deve fare? Il medico avrà dal Dipartimento un elenco dei propri assistiti che sono alla scadenza del periodo di isolamento e quindi alla scadenza di questo periodo avremo il nominativo del soggetto che deve essere sottoposto al tampone e quindi noi lo eseguiremo. I tamponi naturalmente saranno gratuiti e verranno effettuati. Dove il medico di medicina generale sceglierà di eseguirli. Li può eseguire nel proprio studio oppure in strutture messe a disposizione dalle ASP che possono essere strutture fisse oppure strutture mobili tipo drive-in come quello che si trova attrezzato all'ex ONP della Pizzuta. Studiare manovre a sostegno dei commercianti siracusani questo è il motivo della protesta della consulta civica sotto Palazzo Vermexio alla quale hanno partecipato alcuni commercianti costretti a chiudere già dal primo lockdown. Ci troviamo sotto Palazzo Vermexio qui a Piazza Duomo ultimamente è stato scenario più che altro per manifestazioni contro il DPCM attuale soprattutto per le restrizioni e le categorie penalizzate. Adesso invece più che una protesta è un voler comunicare con l'amministrazione comunale siracusana per chiedere degli aiuti e soprattutto cercare di eliminare quello che può aggravare in questo momento sui cittadini. Quali sono le vostre richieste della consulta civica? Esatto, chiaramente oggi è una presenza anche fatta sotto Palazzo Vermexio perché è simbolica, appunto perché è il luogo dove si prendono le grandi decisioni dal punto di vista territoriale. Abbiamo l'opportunità di poter comprendere quelli che sono i disagi generali quindi cerchiamo di tradurli in proposta. Tra le varie proposte chiaramente intanto quella dei rabbedimenti operosi si parla degli accertamenti di pagamento IMU per votare i tasi del 2015 e chiaramente è una cosa che non si può tollerare ma oltre che politicamente anche dal punto di vista etico non è il momento opportuno per poter chiedere ulteriori soldi ai cittadini. Sono dei pagamenti che stanno richiedendo adesso proprio in questi giorni? Sì, perché chiaramente nel 2021 andrebbe in prescrizione. Ora chiaramente si tratta di un provvedimento diciamo obbligatorio perché altrimenti si parlerebbe di danno erariale noi non vogliamo assolutamente questo. Pensare di sospenderla e magari fare un saldo straccio quindi significa rateizzare questo pagamento nel corso del prossimo 2021 magari anche in 5-7 rate. Questo anche per venire incontro ma soprattutto la cosa importante è iniziare a pensare di programmare un bilancio che possa essere efficace e quindi seguente a quello che diciamo è il danno che il DPCM i vari DPCM tutta questa crisi pandemica ha creato nel nostro territorio. Parla di incrementare ulteriormente il fondo di solidarietà e quindi pensare anche a una parte di fitti da pagare sia per i commercianti sia per le famiglie. Secondo la consulta civica queste risorse il comune di Siracusa dove dovrebbe attingere? Ma semplicemente dal taglio degli sprechi o meglio spostare determinate risorse che in questo momento sono messe in determinati capitoli che in questo momento sicuramente non sono essenziali e quindi trasferirli su quelli che dovrebbero rappresentare la priorità della città. Alla manifestazione hanno preso parte un moderato numero di persone ognuno con le proprie motivazioni tra cui anche i commercianti che hanno chiuso i battenti già dal primo lockdown. Un'imprenditrice infatti racconta oltre a parlare della sua esperienza lavorativa personale ha anche raccontato di sostegni economici in altri paesi devoluti ai commercianti per scongiurare la chiusura durante questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. Titolare di un locale qui in Ortigia un locale che andava molto bene raccoglieva tanti siracusani e anche tanti turisti un locale che purtroppo dopo il lockdown dove il primo lockdown non hai più potuto riaprire. Anche tu oggi hai accettato qui l'invito della consulta civica perché? Perché sono anche una cittadina e quindi comunque ritengo giusto partecipare a tutte le forme di educata protesta. Questo lo trovo come quasi un dovere perché è chiaro che tutti quelli che come me hanno investito un sogno in un'attività imprenditoriale pensavamo di essere persone libere in fondo se ci pensiamo bene non le eravamo neanche prima perché l'imposizione fiscale e tributaria ha fatto sì che due mesi di fermo due o tre mesi di fermo hanno generato per molte aziende dei danni veramente difficili e non vi dico e non vi racconto tutti gli aiuti promessi e mai percepiti per i quali ancora oggi io mi voglio battere perché ritengo che sia giusto come dobbiamo rispettare diritti e doveri dobbiamo anche chiedere chi non chiede non ottiene. Siamo stanchi di sentirci presi in giro alzano tutti le braccia a fronte di richieste che non sono di assistenzialismo ma sono esattamente richieste di poter esercitare lavoro fatto da persone per bene non ho tante conoscenze ho vissuto dieci anni all'estero quindi sento mio fratello che è un ristorante in Brasile e che non ha avuto la stessa sorte mia loro racconti quali sono? Di tanta confusione in tutti i paesi le stesse parole, le stesse frasi questo purtroppo ragazzi la conoscenza dà anche un po' di come dire una consapevolezza triste quindi sai cominci in questo secondo lockdown siamo tutti un po' così a dire ma ora che cosa vogliono fare? Loro hanno avuto degli aiuti dei sostegni economici importanti faccio l'esempio di mio fratello uno per tutti mio fratello ha un ristorante di 400 metri quadrati esattamente come il mio con la stessa tipologia di alimentazione siamo fratelli lui ha il 50% dell'affitto assolutamente pagato dallo Stato ha la luce assolutamente pagata dallo Stato quindi anche quando si vede tanta informazione non è proprio così perché quello è mio fratello ci parlo tutti i giorni e i dipendenti che possono lavorare e in parte sono pagati dallo Stato se tu a un'azienda l'aiuti con affitto sospensione reale dell'imposizione fiscale e contributiva e gettito di denaro l'azienda non fallisce Contributi contributi a fondo perduto per le attività economiche e commerciali insediate nel centro storico di Siracusa ne dà notizia la CNA L'Agenzia dell'Entrata ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze si tratta del riconoscimento di un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali insediate nei centri storici delle città turistiche capologo di provincia colpite dal calo dei turisti causato dalla crisi sanitaria del coronavirus in questo numero c'è anche la città di Siracusa su questa misura il cosiddetto decreto agosto aveva previsto lo stanziamento di 500 milioni di euro le istanze potranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web a partire da mercoledì prossimo e fino al 14 gennaio non si tratta di un bando a sportello e pertanto tutte le istanze ammissibili saranno finanziate indipendentemente dalla data d'invio i requisiti necessari avere il domicilio fiscale o la sede operativa nella zona A in questo caso c'è la città di Siracusa avere accusato un calo degli incassi di almeno un terzo tra giugno 2019 e giugno di quest'anno avere iniziato l'attività prima del primo luglio di quest'anno per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio comunale l'importo massimo erogabile di 150.000 euro quello minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per la società per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal primo luglio 2019 il contributo spetta a prescindere si tratta di una misura molto attese per l'impresa del capologo afferma Gianluca Bottaro presidente comunale della CNA di Siracusa ed è estremamente positivo che la città sia stata inserita in questo particolare elenco in virtù della crescita di presenze in questi ultimi anni abbiamo scritto al sindaco per un chiarimento sul perimetro della zona A e soprattutto di eventuali zone equipollenti adesso spieghiamo rapidità della risposta e nelle relative erogazioni degli eventi diritto è un ristoro molto specifico conclude Bottaro per il resto contiamo di migliorare il piano generale di aiuti per le tante, troppe imprese non ricadenti in centro storico ma che stanno avendo fortissime riduzioni di entrate e che non si possono sostenere solo secondo i codici Ateco e a proposito di prevenzione al Covid anche l'associazione Carabinieri in primo piano in tale attività vediamo l'arma dei Carabinieri è sempre attiva anche e soprattutto durante il periodo di Covid voi avete tra virgolette adottato una scuola o un istituto che servizio fate in questo istituto? allora volevo inizialmente soffermarmi sul fatto che già nel primo periodo Covid abbiamo dato il nostro contributo alla cittadinanza di Siracusa molto sostanziale stiamo continuando anche quest'anno con il servizio che stiamo dando all'istituto comprensivo Archia sia qui sia negli altri plessi riusciamo a ottenere ottimi risultati perché i genitori seguono le nostre direttive il distanziamento l'utilizzo delle mascherine siamo felici di riuscire a dare questo contributo anche perché siamo molto anche affezionati ai ragazzi di questa scuola con cui noi diciamo ci viviamo tutti i giorni quindi dare un contributo anche da parte nostra mi sembra una cosa doverosa in questo periodo di difficoltà soprattutto per la gente che cosa vi richiedono in particolar modo? Quale tipo di servizio di prestazione? Diciamo che sostanzialmente ci chiedono di vigilare sul distanziamento e sull'utilizzo delle mascherine questa è la prima cosa che ci chiedono poi se riusciamo a dare qualche cosa in più anche con la vigilanza dei settori e quant'altro noi siamo sempre disponibili oltretutto siamo nel territorio attualmente con questo periodo covid sia all'agenzia dell'entrata di noto sia all'agenzia dell'entrata di Siracusa con il cadastro e sia anche le domeniche presso il santuario con un grosso numero di soci che sono felici di essere presenti Domanda ma visto che voi siete dislocati nel territorio c'è la consapevolezza di dover rispettare le misure di contenimento? Ma come ho detto anche nel primo periodo siamo in presenza di una cittadinanza qui a Siracusa che è molto solerte infatti quando ci proponiamo nel consigliare sia l'utilizzo delle mascherine sia nel distanziamento devo dire che effettivamente ci danno ottimi risultati perché non abbiamo riscontrato nessun problema fino ad oggi Cambiamo argomento i locali del centro pastorale del santuario saranno concessi in comodato d'uso gratuito alla scuola Lombardo Radice di Siracusa Dopo la parrocchia Santa Rita la parrocchia Santissimo Salvatore nelle scorse settimane anche la Basilica Madonna delle Lacrime ha concesso al comune di Siracusa incomodato d'uso gratuito ai locali del centro pastorale del santuario che saranno utilizzati dall'istituto comprensivo Lombardo Radice di Siracusa come spazio per aule scolastiche l'accordo nasce dalla sensibilità della conferenza episcopale italiana dalla conferenza episcopale siciliana e dalla diocesi di Siracusa che hanno chiesto alle parrocchie di mettere a disposizione i propri locali gratuitamente in questo periodo di emergenza Il rettore del santuario ha definito la concessione un dovere sociale per il bene comune nello stesso tempo auspica anche una maggiore attenzione da parte del comune di Siracusa verso il santuario che custodendo le lacrime della Madonna costituisce un riferimento spirituale e sociale a servizio della città Non di meno valore il parco del santuario polmone verde per tutta la cittadinanza il santuario con notevoli sforzi cerca di tenerlo in uno stato decente lottando contro l'inciviltà di quanti lo sporcano nel parco del santuario è permesso di introdurre animali al guinzaglio ma non di far loro depositare i bisogni davanti alla non curanza di chi li accompagna che per civiltà dovrebbero pulire e non lasciare sporco il santuario da solo non può garantire sicurezza e pulizia senza l'aiuto del comune di Siracusa e della sensibilità della collettività Ed eccoci al consueto break pubblicitario linea alla regia per i consigli poi torniamo con le altre notizie A tra poco Toscano presenta la migliore tecnologia per vendere casa Marco perché Toscano è un portale un'app e un gruppo di persone per vendere casa usiamo la tecnologia e i migliori agenti per vendere casa chiama Toscano rispondono le persone qualità professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia grazie a un'equip d'eccellenza assicurano sempre la massima precisione e accuratezza in ogni servizio svolto Physiorem Medical Center la trovi a Siracusa La vita è la somma delle scelte che decidiamo di fare ogni giorno scelte a volte facili altre meno uscire di casa o farsi consegnare l'ordine pesce fresco o surgelato carne o vegetali vino o birra alcune di queste scelte ci porteranno a vivere momenti speciali che ricorderemo per sempre questi momenti sono fatti della qualità dei dettagli che li compongono che tu sia un privato o un utente professionale che tu scelga di cucinare per amore o per passione scegli Alta Sfera casa di cura clinica Villa Rizzo sempre in continua evoluzione all'interno della struttura di Villa Rizzo affrontiamo tutte le problematiche di obesità di sovrappeso con una metodica rivoluzionaria EELIPS è un palloncino intragastrico che non c'è bisogno di anestesia non c'è bisogno di chirurgia e non abbiamo bisogno di endoscopia un palloncino biodegradabile di composizione vegetale e messo all'interno di una capsula quindi il paziente non deve fare altro che ingerire la capsula la quale arriva nello stomaco viene riempita di semplice acqua a livello gastrico ha un potere saziante quindi il paziente mangerà poco e costantemente nell'arco della giornata e quindi riesce a perdere una percentuale di grasso anche molto alta Casa di cura clinica Villa Rizzo via Sebastiano Agati Siracusa Info 0931 70 81 11 da Tropical Caffè un'offerta per tutte le attività commerciali un aiuto per la ripresa che sarà certa fornitura macchina da caffè tre gruppi macina dosatore più cartuccia di nuova costruzione incomodato d'uso premio di ingresso con fornitura mensile 50 kg più 30 gratuiti per 6 mesi impegno d'acquisto in esclusiva per 2 anni per informazioni tropicalcaffè.com 0931 68065 Eccoci studio per la seconda parte del telegiornale che riprendiamo parlando ancora del santuario o meglio del santuario la preghiera la preghiera per i malati di covid la giornata dei poveri e domenica ci sarà la messa in suffragio delle vittime della strada vediamo il servizio il santuario di siracusa è vicino con la preghiera ai medici agli infermieri al cardinale quartiero bassetti a quanti stanno lottando contro il covid le lacrime della madonna di siracusa diano forza consolazione e cigni con la strada per sconfiggere il male dell'epidemia detto donna Aurelio Russo che è il rettore del santuario intanto per la giornata mondiale dei poveri indetta dal papa francesco che invita la chiesa e la società a una maggiore attenzione verso i bisognosi nella quarta giornata mondiale appunto dedicata ai poveri il tema guida sarà tendi la tua mano al povero a causa della pandemia non è possibile realizzare particolari iniziative questo è sempre Aurelio Russo il rettore del santuario a parlare oltre quelle messe in atto dalla casa di carità del santuario nel rispetto alle normative anti covid durante le sante messe si ricorderà il dovere di ogni cristiano di ogni persona non voltarsi all'alta parte di fronte a chi tende la sua mano per chiedere aiuto il rettore del santuario auspica quanto prima di ristrutturare la casa della carità per una migliore accoglienza delle famiglie in difficoltà intanto per domani domenica giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada il rettore del santuario celebra una messa alle 19 in memoria in suffraggio delle persone morte o ferite in incidenti stradali ricordando anche al lavoro degli operatori di polizia dei componenti e delle squadre di emergenza e degli operatori sanitari pronti a intervenire sul luogo dell'incidente dall'altare della Madonna delle Lacrime si eleverà quindi la preghiera anche per le famiglie ferite e addolorate per la perdita dei loro cari quarta giornata mondiale dei poveri domani iniziative anche a San Tommaso Postolo al Pantheon Don di Natale dice che molti siracusani che si rivolgono alla nostra mensa domani sarà la quarta giornata mondiale della povertà istituita da Papa Francesco e a Siracusa anche la parrocchia di San Tommaso Apostolo al Pantheon darà il proprio contributo sì ci sembrava giusto aderire a ciò che ogni giorno qui da 15 anni la parrocchia cerca di condividere con quanti sono in qualsiasi genere di necessità domani il tema che Papa Francesco sottopone alla nostra riflessione è di tendere la mano al fratello è tratto dal libro del Siracide ed è un compito quanto mai impegnativo per ogni cristiano tendere la mano non significa dare semplicemente quella mano fisica che ci è impedita ma accogliere il fratello così com'è non solo extracomunitari numerosi siracusani che soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria e di crisi economica chiedono un pasto caldo dall'8 marzo diamo il pasto caldo che si viene preparato nei contenitori e attualmente da 32 siamo arrivati a 64 la mensa del Pantheon come le altre di Siracusa è aperta ogni giorno festivi inclusi l'obiettivo è quello di dare un pasto a chi perché ha perso il lavoro o per altri motivi non ce l'ha io mi sono insediato il 16 di febbraio ogni giorno nel periodo estivo il 15 agosto ogni giorno i volontari hanno garantito la loro presenza e a me il compito di coordinare e di fare in modo che non manchi il necessario per i nostri fratelli cambiamo ancora argomento andiamo in provincia perché i sindaci di Lentini e di Francofonte hanno emesso nuove ordinanze di chiusura per le scuole il sindaco di Francofonte e architetto Daniele Lentini con una nuova ordinanza ha ordinato la immediata sospensione in via cautelativa e precauzionale dell'attività didattica in tutte le scuole cittadine di ogni ordine grato al fine di permettere una minore diffusione del virus covid-19 all'interno della popolazione scolastica e per permettere il recupero delle attività di tracciamento salvo successiva e diversa disposizione scuole chiuse anche a Lentini dal 16 al 27 novembre 2020 l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica è scattata a seguito delle comunicazioni pervenute dal servizio epidemiologia dell'ASPE di Siracusa in cui viene richiesta la chiusura temporanea di alcuni plessi scolastici e di alcuni luoghi di culto come quarantena senza tampone finale in ottemperanza al DPCM del 12 ottobre 2020 Il Partito Democratico di Lentini interviene per fronteggiare l'emergenza covid nei territori di Lentini Carlentini e Francofonte da vari giorni afferma il segretario del PD di Lentini Italo Giordano si registra un preoccupante aumento di contagi da covid-19 nella zona di Lentini Carlentini e Francofonte al pari di quanto accade negli altri comuni della provincia e della Sicilia le nostre strutture sanitarie sono stressate e i medici e gli operatori sono preoccupati perché in assenza di un contenimento del contagio diventerà problematico evitare il collasso i cittadini sono giustamente allarmati per fronteggiare l'emergenza il PD di Lentini chiede all'ASPE di Siracusa e all'assessore regionale alla salute l'attuazione di un piano straordinario di assunzione di medici infermieri tecnici operatori sociosanitari e amministrativi per coprire i vuoti di organico in tutti i reparti ospedalieri e nel distretto sanitario e di adeguamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche anche per poter aumentare i posti letti in terapia intensiva il PD di Lentini chiede anche il recupero del finanziamento originariamente destinato al distretto sanitario di Lentini per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di piazza Aldomoro presidio indispensabile per il potenziamento della medicina territoriale e per realizzare un'efficace attività di prevenzione evitando di caricare eccessivi oneri sull'ospedale a giudizio delle PD lentinese quindi bisogna prolungare anche gli orari delle USCA di recente istituzione per le visite domiciliari e abbreviare i tempi per l'esito dei tamponi in sinergia con i medici di famiglia che possono essere coinvolti nel praticare tamponi presso la struttura pubblica anche con l'ausilio di personale sanitario e parasanitario già presente nella struttura urge anche potenziare i servizi sanitari per gli anziani a partire dalla RSA e realizzare una capillare verifica dello stato di attuazione dei servizi sociosanitari di competenza dei comuni si tratta di questioni ampiamente note conclude il segretario del PD del Lentini Italo Giordano da anni oggetto di rivendicazioni da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato laico e cattolico del territorio e siamo in provincia ma ci spostiamo ad Augusta perché è sbaccata una nave quarantena con ben 382 straniere a bordo proseguono gli sbarchi di extracomunitari sull'isola di Lampedusa e pertanto prosegue incessante l'attività della questura di Siracusa a seguito della presenza delle navi quarantena ormeggiate nella rada del porto di Augusta la complessa macchina organizzativa messa in campo prevede il coinvolgimento di numerosi uffici della questura che trattano i vari aspetti legati alla gestione dei migranti che negativi al secondo tampone vengono fatti sbarcare dalle navi l'ufficio di gabinetto della questura assicura il coordinamento di tutte le forze di polizia presenti e organizza tutte le operazioni dallo sbarco all'accompagnamento dei migranti nelle varie destinazioni italiane la polizia scientifica che svolge le incombenze legate al fotosegnalamento dei cittadini stranieri e l'ufficio immigrazione adempie i necessari atti previste delle leggi presenti sul testo unico sull'immigrazione nelle giornate scorse poliziotti diretti alla dottoressa Marletta hanno operato sulla nave suprema che è a bordo a 861 stranieri 382 di questi ultimato il periodo di quarantena i risultati negativi al secondo tampone sono scesi dalla nave nella circostanza i poliziotti hanno eseguito 201 provvedimenti di respingimento emessi dal questore di Siracusa nei confronti degli stranieri cosiddetti economici e pertanto irregolari sul territorio dello Stato di questi 134 sono stati trattenuti nei CPR dislocati sul territorio nazionale dove sono stati accompagnati per essere successivamente rimpatriati nel paese di origine mentre per altri 67 è stato adottato il provvedimento di lasciare il territorio nazionale per i restanti 181 immigrati che hanno diritto a richiedere l'asilo politico il prefetto di Siracusa di concerto con il Dipartimento Libertà Civili e delle Immigrazioni del Ministero dell'Interno ha disposto che siano ospitati in idonee strutture di accoglienza dopo le incombenze la nave suprema ha fatto ritorno a Lampedusa per imbarcare altri stranieri appena giunti sull'isola la cronaca adesso il Tribunale Penale di Siracusa ha disposto gli arresti domiciliari per Gianfranco Urso figlio del boss Agostino Ufrussure il cosiddetto Ufrussure il collegio ha colto la richiesta avanzata dagli avvocati Giambattista Rizza e Iuno Celesti dopo che il 5 ottobre scorso gli ha inflitto la condanna a 21 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di droga con l'aggravante di esserne stato il promotore Urso potrà quindi lasciare il carcere di Terni dove si trova detenuto dopo essere stato coinvolto in un'operazione antidroga denominata Aretusa e ancora cronaca il GIP del Tribunale Francesco Alligo disposto alla meno affettiva misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ristoratore siracusano Francesco Pellizzeri l'uomo era stato arrestato nel mese di agosto scorso dai carabinieri perché in collaborazione con quelli della stazione di Ortigia per detenzione porto illegale d'arma e munizione difeso dagli avvocati Gian Battista Rizza e Giuseppe Culotti Pellizzeri ricorso a rito abbreviato e dovrà comparire davanti al giudice per le udienze preliminari il prossimo 2 dicembre Pellizzeri era stato notato mentre con fare sospetto parcheggiava l'autovettura nei pressi del tribunale successivamente atteso nel prelevarla sottoposto a perquisizione dell'abitacolo era stata rinvenuta una revolver calibro 38 la pagina sportiva adesso oggi la apriamo con il quarto anniversario ricorre proprio oggi della scomparsa di Enzo Maiorca ecco come lo ricorda Siracusa la città dove è nato nel 1931 quattro anni fa ci lasciava all'età di 85 anni Enzo Maiorca la città oggi lo ricorda attraverso i social che sono stati inondati di messaggi di ricordi per un tributo unanime nei confronti del re degli abissi dal 1960 fu protagonista di tanti primati del mondo di profondità raggiunta in apnea ad assetto variabile il primo meno 45 metri strappato al brasiliano Santarelli e poi tutta una serie di altri fino al 1976 celebre la competizione tra gli anni 60 e 70 con il sub francese Jacques Maiol poi morto suicida nella sua casa toscana nel 2001 proprio la sua sfida con Maiol ha ispirato il regista Luc Besson un film con il titolo di Le Grand Bleu uscito nel 1988 però in Italia è arrivato nelle sale cinematografiche soltanto nel 2002 nel 1986 dopo un periodo di pausa Maiorca è ritornato alle competizioni ed è sceso nell'88 fino a 101 metri poi ha deciso di abbandonare e di dedicarsi alla sua vita privata appassionato di archeologia marina ha partecipato a spedizioni scientifiche come quelle del triangolo delle Bermude nel 1978 fu anche senatore con alleanza nazionale dal 1994 al 1996 gli ultimi anni della sua esistenza sono stati particolarmente travagliati soprattutto a causa della morte nel 2005 della figlia Rossana anche la campionessa di immersione in apnea in assetto variabile come la sorella Patrizia se l'immagine di Maiorca è associata alle imprese non tutti sanno che scrisse diversi libri da a capofitto nel Turchino vita imprese di un primatista mondiale a sotto il segno di Tanit da scuola di apnea a il mare con la M maiuscola nel settembre del 2004 gli fu assegnata la melaglia d'oro al merito di Marina come figura di spicco nello sport del subacqueo ha dominato la scena mondiale dell'immersione in apnea per un trentennio prodigandosi inoltre con passione e determinazione per la salvaguardia del patrimonio naturalistico marino limpido esempio di amore per il mare inteso come ragione di vita la palla a nuoto adesso con l'Ortigia che ha un passo dal superamento del turno in Champions League vittoria anche sul Barcelona gli uomini allenati da Piccardo basta appena un pareggio adesso per qualificarsi per la finale vediamo l'Ortigia gioca a quattro tempi davvero ad alto livello e supera anche il Barcelona conquistando la vetta solitaria del gruppo a uno con nove punti punteggio pieno il Barcelona si affida alla forza del suo centrobò a Tahul che permette ai suoi di giocare con l'uomo in più per quattro volte l'Ortigia difende con tenacia guidata da un tempesti gigantesco a difesa della porta biancoverde Vidovic la sblocca la partita con un gol a uomo in più ma gli spagnoli pareggiano con Duric un minuto dopo nel secondo tempo Ferrero e Giacoppo portano avanti i biancoverdi l'Ortigia controlla respinge l'offensiva spagnole solo Delgado con un tiro sporco riesce a riportare sotto la squadra spagnola ma nel terzo tempo sale in cattedra Napolitano che con una doppietta d'autore fissa il massimo vantaggio 5 a 2 nel quarto parziale l'Ortigia gestisce il vantaggio concedendo il terzo gol del match agli avversari solo a 40 secondi dalla fine alla sole della sirena esplode quindi la gioia dei biancoverdi che oggi affrontano il primo rack basta anche un pari per accedere alla finale a fine gara il tecnico Stefano Piccardo sostiene che aveva preparato bene la partita e quindi un applauso ai giocatori che l'hanno interpretata bene oggi sono loro i protagonisti indiscussi quindi l'ode a loro per quello che hanno fatto abbiamo difeso bene dopo aver preso il primo gol con l'uomo in meno abbiamo cambiato movimento e questo ha pagato Cristian Napolitano tra i protagonisti in Vasca la Champions l'abbiamo preparata bene come squadra siamo compatti fino alla fine ci stiamo divertendo e andiamo avanti insieme anche il capitano Massimo Giacoppo elogia le caratteristiche dell'Ortigia che si è vista una squadra con gioco di altissimo livello degno di una Coppa dei Campioni e poi l'elogio particolare al portiere Tempesti che dice è stato monumentale ha raggiunto uno stato di forma incredibile è sicuramente quello che ci darà grande sicurezza dietro una notizia di servizio la messa che abitualmente viene onda la domenica e viene trasmessa in diretta da questa emittente non andrà alle 10.50 come di solito ma eccezionalmente alle 11.15 nella chiesa di San Salvatore adesso vediamo insieme le notizie sul medio Amici 3B Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà l'avvicinamento all'Italia di una perturbazione atlantica che in realtà ci interesserà nella giornata poi di lunedì però già alla fine di domenica comincerà a far sentire i suoi effetti sul nord Italia vediamo intanto la previsione della nuvolosità attesa sul nostro paese e sarà una giornata anche discreta guardate non mancheranno delle belle aperture però in pianura padana cielo sempre grigio e poi guardate questa è la perturbazione che soprattutto a seconda parte del giorno comincerà a interessare il nord ovest e l'alto tirreno anche come precipitazioni inizialmente nulla di particolare da segnalare a parte qualche locale piovasco che potrebbe interessare le zone interne del sud poi però a fine giornata cominciano a comparire delle precipitazioni sulle regioni settentrionali quindi in definitiva ci attende una domenica nel complesso discreta però un po' variabile inizialmente nelle regioni meridionali qualche locale piovasco ma in allontanamento e poi a fine giornata mentre non dire proprio verso sera ecco arrivare il peggioramento al nord ovest e sull'alto tirreno e poi lunedì sarà una giornata molto autunnale per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app di Trebi Meteo è tutto per questa edizione di Trissi Telegiornale grazie per averci seguito arrivederci e a risentirci a prossimo appuntamento Grazie a tutti Grazie a tutti